ragazze buongiorno buongiorno allora io in pieno giardinaggio come vedete allora questa è la pianta che devo travasare perché vedete ormai il vaso è piccolo per quanto sta diventando vedete che c'è qua guardate guardate che meraviglia quindi questa 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 mostela la voglio mettere in questo vaso diciamo in realtà questo è un porta vaso però io la voglio utilizzare anche perché è molto leggero questa pianta era messa sopra questo carrello di chea questo rosa ora cambiando il vaso è molto più grande e quindi non so non so se lo posso rimettere la devo provare per questo ho scelto il vaso leggero perché vorrei rimetterlo la però non lo so e poi devo travasare pure questa pianta di roselline perché il vaso è piccolo voglio dargli più più sfogo più terra più spazio quindi le piante da travasare sono queste qua c'è una bella busta di terra che mi ha comprato ieri il mio maritino sì 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 l'aria è calda certo non ci può essere aria di ottobre manco di novembre perché siamo a luglio quindi devo travasare delle piante quindi sì dicevamo che c'è caldo io appunto devo fare questa questo travaso giardinaggio giardinaggio sì vabbè io vado a fare il pesciaggio ah tu vai a fare il pesciaggio vabbè ma tu sei monotono tu il pesciaggio lo fai ogni giorno no io no io non faccio ogni giorno giardinaggio io vado a curare i miei pesci va bene vai a curare i tuoi pesci veramente più che curarli tu te li mangi quindi non è una cura ma li tolgo da da gente che può farne un cattivo uso in che senso un cattivo uso te li mangi tu e se li mangiano pure io perché tu che uso ne fai li prendi vivi e li metti in un acquario no qui te li mangi vanno in un recipiente va bene pulito ah è un recipiente pulito ho capito diciamo che vanno a buon fine sei il solito paracu vanno a buon fine vanno in pancia sicura in pancia sicura ecco ho capito quindi li vado a togliere proprio da lì che sono in maniera di altre pance di altre pance mentre la tua è una pancia più pura più pulita questo è il paraculismo di mio marito va bene ragazze scusate mi sono scordata che c'è questa più che questa rosellina è questa vedete ragazze in un attimo avevo invertito le piante è questa perché questa come vedete ha il vaso piccolo piccolo quindi ora lo chef se ne vava a fare la sua pesca così io mi dedico al giardinaggio ragazze sempre per essere molto chiara vedete questa come mi è uscita così intera mentre appunto questa si è rotta comunque andiamo a travasare ora mi sembra che la terra sia pochina dovrei dire allo chef di comprarmi un'altra busta vediamo allora ragazze recap questa è la pianta di rosellina elisianthus quindi in questo bel vaso ho messo la terra se ce ne fosse un altro poco non sarebbe male ora questi secchi così ce li togliamo allora questo è uno vi faccio vedere nel frattempo il macello che si fa naturalmente qualcuna mi dirà marianna ma perché non mettevi dei fogli di giornale sotto semplici perché non ho fogli di giornale allora mentre la monstera che era messa lì sopra il carrello di ikea l'ho travasata in questo bel vaso grande e naturalmente la non ci sta più per grandezza per proporzione per pesantezza quindi intanto l'ho messo qua poi che ho fatto ho aggiunto qualche stecchino qualche legnetto per fare gli spiedini per sollevare un po le piante comunque mi sembra che che vada bene qua c'è una fogliolina tenera tenera che si sta aprendo ora ragazze spero spero vi ripeto che non si sia fatto qualche danno togliendola che si sia rotta qualche radice comunque ragazze questo è il risultato della della monstera ora questa dovrebbe crescere con con tutta questa terra e con questo spazio dovrebbe crescere un bel po ok ragazze allora ora mi tocca andare a pulire tutta la terra che ho fatto lì e andare a spazzare ben bene sopra il tavolino pure e poi cominciamo con le cose quotidiane il letto l'ho già fatto ho rimesso il fiumoncino quello bianco bello pulito vediamo se già mai accessa lita o è ancora bello sistemato ok ancora è sistemato vedete maia le cose che mi fa perché ogni tanto rimane con le zampette appese e però ragazze questo è questo è il prezzo da pagare se vogliamo i cuccioli se vogliamo l'amore dei nostri cuccioli qualche piccolo prezzo eccola che vuoi in me qualche piccolo prezzo bisogna pur pagarlo no per tutto l'amore che ci danno la compagnia la dolcezza qualche prezzo si deve pagare è vero marmottina ma sai che mi devo fare un collo di pelliccia con questa coda ragazze ho fatto questo lavoro di giardinaggio con un'unghia infortunata vi faccio vedere guardate ragazze ai vedete praticamente lunga si è sollevata vetti a fuoco non dalla fine ma dall'inizio da qui dove più doloroso comunque ieri ho chiamato daniela la mia onico tecnica ho detto che c'era un'emergenza io dovevo fare le unghie però potevo stare ancora qualche giorno ma insomma le ho detto che ho questa emergenza che mi dà troppo fastidio e ho preso appuntamento mi ha dato appuntamento per oggi pomeriggio alle 18 quindi più tardi intanto mi tolgo questo fastidio perché veramente è una cosa insopportabile e poi avrei intenzione di farmele più corte più squadrate anziché così mi pare che si chiami a mandorla più corte più squadrate e poi avevo intenzione di farle o bianche oppure celestini celeste chiaro anche rosa volendo potrei farle anche rosa visto diciamo quello che sto vivendo vediamo vediamo più tardi che cosa che cosa pensiamo ragazzi allora diciamo che ho finito nel frattempo come dire tolto un po di cose che c'erano qua li ho lavate perché anche le cose che non si utilizzano anche dentro i pensili alcune volte si pigliano di polvere quindi ho lavato questo poi ho lavato questa bella bellissima alzatina e poi che cosa alcune cose che ho messo qua insomma ragazze niente sempre pulizie diciamo chiamiamole così straordinarie non mi riprometto sempre dico ma oggi faccio meno cose ho più tempo mi guardo un po di tv in realtà ho messo cortesie per gli ospiti lo sapete che intorno a quest'ora sono le 12 e 20 fanno le repliche già ho visto una puntata e lo sto vedendo ma non come vorrei io quindi seduta sul divano perché ragazze c'è sempre da fare non c'è niente di nuovo allora questa bella frutta l'ha portata poc'anzi mio marito questo bel pomodorino quindi ora faccio pomodorini e aglio ho già preparato il wok questo qua e un'altra cosa che dovrei fare è pulire le inferriate del balcone ragazze perché come al solito sarà il vento di scirocco il vento che viene dall'africa non lo so so solo che le inferriate appunto la balconata è sempre piena di una cosa bianca tipo sabbia vedete ve la faccio vedere qua e dire che l'ho pulito forse due giorni fa guardate vedete comunque ragazze questo è il caldo questo è il sud oggi pochissimo vento e finalmente mi posso tenere l'ombrellone aperto perché l'ombrellone appunto appena c'è un pochino di vento si muove e mio marito va in panico e anche se non c'è mio marito lui mi ha trasmesso appunto la paura e quindi appena si muove un pochino corro a chiuderlo allora raga oggi abbiamo fatto un bel po di cose abbiamo fatto giardinaggio un attimo che aggiorniamo il calendario oggi ne abbiamo 12 e io conto i giorni perché il 20 c'è il concerto di tommy tommaso paradiso e non vedo l'ora e poi ragazze niente io direi che ho finito a parte appunto pulire l'inferriata del balcone adesso vi ripeto faccio il pomodorino e poi ringrazio ragazze ieri una persona mi ha scritto una cosa una bellissima cosa una ragazza di 42 anni mi ha detto che mi segue che le faccio venire la voglia di curarsi che lei purtroppo ha avuto non ho capito se ha avuto ancora una depressione però anche grazie ai miei video di make up le è venuta la voglia di truccarsi insomma mi ha fatto un sacco di complimenti mi ha detto tanto che le piacerebbe diciamo avere potrei essere la sua mamma appunto cercare di tenerla su io appunto se lei adesso sta avendo questo video la ringrazio la saluto sono felice appunto di regalarle un pochino di come dire non mi viene la parola e niente ragazze sono sempre contenta appunto delle cose che mi dite in questi giorni ho in mente qualche video ragazze mi avete chiesto volevate sapere della mia infanzia e ve lo voglio fare un altro video che mi è venuto in mente riguarda gli uomini ridicoli riallacciandomi a tentation island io questo programma lo vedo ogni anno quando lo fanno lo vedo mi diverto lo segue mia figlia e ci divertiamo a vedere queste coppie un po' perché ragazze siamo donne quindi tutto quello che riguarda amore gelosia tradimenti queste cose ci piacciono ci mediasimiamo e quindi vi ripeto lo seguo ogni anno con molta lo attendo molto e ieri c'è stata una puntata in cui appunto gli uomini si sono dimostrati molto piccoli e molto ridicoli quindi voglio parlare di questa cosa bene mi sembra di avere parlato già abbastanza più tardi appunto vi ripeto mi vado a fare queste unghie perché ho questo disagio in questo dito e ragazze niente noi come al solito ci vediamo domani domani è sabato non so se sarà un sabato di pulizia o un sabato di mare vedremo non so se sarà un sabato di pulizia o un sabato di mare vedremo